Riscatto pieno per l'Allianz Udas. Nella quattordicesima di ritorno del campionato di basket Serie C Silver, i biancazzurri allenati da Luigi Marinelli hanno battuto per 91-68 il Valentino Castellaneta. La partita comincia al piccolo trotto con equilibrio fra le due formazioni. L'Allianz fa sentire la sua voce grazie al duo Cipri Malat, mentre Castellana replica con Resta e Coleman. I padroni di casa cominciano a distanziare gli avversari e al termine del primo quarto è 20-19. All'inizio del secondo il gioco dei cannibali si va più veloce e ben orchestrato da Capitan Serazzi e Dulano non da scampo alla Valentino Castellaneta che pur con generosità ma non basterà cerca di restare sul pezzo all'intervallo lungo 44-32 Allianz. Il terzo si apre con la spinta definitiva dei padroni di casa. Importante l'azione tutta americana partita da Malat e chiusa con Napoli Rosa schiacciata da Boss. Mennuni in difesa è un mastino più che inferocito per non far passare gli avversari, mentre Cipri si intrupola nelle maglie avversari come un roadrunner che non vuole fermarsi mai. Unitamente al Falcone tutto fare con Serazzi e Dulano che a suon di triple chiudono con molto anticipo la gara. Castellaneta alza bandiera bianca troppo presto e si chiude il 91-68 con tranquillità. Poco tempo per rimosare in campo mercoledì per l'ultimo turno infrasettimanale della stagione con la trasferta ad Altamura. Mimmo Siena, speciale news dal Palasport, Nando Di Leo, Cerignola, Foggia.